Buonasera, sono Patrizia Caraveo, sono una astrofisica e stasera vi parlerò della magia del cielo stellato, della qualità del nostro cielo e degli sforzi che tutti dobbiamo fare per preservare la grande bellezza celeste. L'astronomia è una scienza antichissima, io dico sempre sorridendo che faccio il secondo mestiere più antico del mondo. Il primo ve lo immaginate, gli astronomi sono stati i primi scienziati ma hanno anche saputo vendere molto bene la loro merce per l'ottimo motivo che hanno convinto re e imperatori che il futuro era scritto nel cielo e quindi se gli astronomi potevano studiare il cielo, quindi dedicare il loro tempo a capire il moto degli astri, a predire il moto degli astri, potevano assicurare il benessere e la fortuna del regnante di turno. È una storia, diciamo così, di successo, talmente di successo che adesso c'è qualcuno che confonde l'astronomia con l'astrologia. Sono due cose molto diverse e gli astronomi guadagnano molto meno degli astrologi, ma diciamo la scienza è vera, è l'astronomia. È una scienza però di straordinario fascino. Il fascino proprio del cielo stellato è inarrivabile. Nessun altro spettacolo naturale è così coinvolgente ed è uno spettacolo assolutamente democratico perché è alla portata di tutti. Non c'è bisogno di fare la prenotazione come avete dovuto fare voi per venire qui, basta alzare gli occhi al cielo. Però esiste un ingrediente fondamentale per godere della grande bellezza celeste e questo ingrediente è il buio. Noi possiamo vedere le stelle se è buio e quindi noi che cosa facciamo specialmente d'estate? Cerchiamo di trovare dei luoghi isolati magari cercando disperatamente di trovare dei luoghi che non abbiano troppa illuminazione, troppa luce perché la luce in questo caso distrugge la bellezza. Qui vedete un classico spettacolo estivo facile da vedere. Ancora una volta alla portata di tutti sono le stelle cadenti. Sapete che è un modo molto poetico di chiamare la polvere. Questa è polvere di antiche comete che interagisce con l'atmosfera terrestre. Sono granelli microscopici tipo la sabbia, anche più piccoli, che però vengono surriscaldati dall'attrito e bruciano. Quindi danno luogo a questo bellissimo fenomeno. Quest'estate abbiamo anche visto, se riusciamo, perché non va? Non va né avanti né indietro. Si è incasinato. Ahimè. Ok. Abbiamo visto, l'abbiamo vista di sfuggita una cometa, non ce l'aspettavamo, si chiama Neo Waze, ma comunque il vero problema è che la qualità del cielo che noi vediamo sopra la nostra testa dipende dalla quantità di luce che sta illuminandoci in quel momento. Qui vedete una sequenza di cieli sempre più bui. Quindi il cielo che noi diciamo di prima qualità è un cielo completamente senza illuminazione. Poi man mano vedete che l'illuminazione aumenta, questa è un cielo di una città, questi sono dei cieli di periferia, poi diventano dei cieli rurali, quindi con poca illuminazione fino ad arrivare ai cieli perfetti. Quindi quello che voi dovete sempre pensare è che il cielo è sempre uguale sopra la nostra testa, ma quello che noi vediamo dipende da quello che i fisici chiamano il rapporto segnale rumore, la brillantezza delle stelle contro la luce dell'illuminazione, che diciamo chiameremo luce parassita. Benissimo, allora vediamo un bel cielo in Italia, questo qui sono due visioni d'estate, la Via Lattea ci passa proprio sopra la testa e sono due visioni della Via Lattea. A sinistra la vedete credo da un parco naturale nella zona di Otranto, a destra da un parco astronomico che è stato recentemente istituito in Val d'Aosta, intorno all'osservatorio di Saint-Barthomé. Vedete è una bella visione del cielo decisamente, ma non è perfetta, guardate questo alone luminoso, ricordatevi siamo in Val d'Aosta, quell'alone luminoso è Torino, quindi Torino è distante più di 100 chilometri da dove è stata presa questa foto, eppure vedete quanto brilla. Questi alone sono dovuti alla luce dell'illuminazione che viene poi in qualche modo diffusa dall'umidità, dai granelli di polvere che ci sono nell'atmosfera e quindi diventa una palla luminosa che si vede a distanza di decine o per grandi città di centinaia di chilometri. L'Italia non è messa bene da questo punto di vista perché questa è una visione della nostra penisola dalla Stazione Spaziale Internazionale. Allora la Stazione Spaziale ha un'orbita inclinata di una cinquantina di gradi, quindi non passa nord-sud, passa sempre molto di sghimbescio, diciamo così, rispetto all'Italia. e quindi l'Italia, ma così come tutti i continenti, tutte le nazioni del mondo, sono molto spesso difficili da riconoscere perché noi siamo abituati a vederle negli atlanti ben orientate, nord-sud, eccetera, mentre nella realtà poi un po' come quando andiamo in aereo che io mi diverto sempre a cercare di riconoscere le isole, i fiumi, così e mi scontro sempre con la mia meravigliosa figlia, genio della chimica, grande organizzatrice, ma completamente ignara della geografia, si è sempre rifiutata di studiarla. Quando io andando a Roma dico guarda quella lì è l'isola d'Elba, la sua risposta è come fai a saperlo? Conoscenza della geografia, così come quando di sera dico guarda Giove, così la risposta è sempre come fai a saperlo? Insegno astronomia, qualche cosa più o meno l'avrò anche imparata. Allora, questa è l'Italia e vedete che non c'è un angolo, un buchetto dell'Italia che non sia illuminato. Proprio forse le cime qua degli appennini, ma sono delle regioni perché sono fondamentalmente regioni poco abitate. Guardate Milano dove siamo noi adesso, è veramente un faro ma è tutta la pianura padana che è illuminatissima e poi vedete le grandi vie di comunicazione, poi vedete Roma, Napoli, Bari, cioè si vedono tutte le grandi città. Dove qua vi sembra di vedere dell'ombra, in effetti sono i pannelli solari della stazione spaziale. Quindi noi sono loro che fanno ombra, sotto ci sono luci. La pianura padana è uno dei luoghi più inquinati dal punto di vista luminoso. Cioè è uno dei luoghi che hanno la più alta illuminazione parassita. In Europa ci sono due posti che sono luminosissimi. Uno è la pianura padana, allora in questo punto siamo qui. L'altro è il triangolo Belgio-Olanda-Nord della Germania. Questi sono i due posti più illuminati. In verità all'interno delle nazioni del G20 l'Italia è seconda solo alla Corea del Sud per illuminazione parassita. Allora, prima di tutto vediamo di capire che cos'è questa mappa. Questa è la Terra di notte, allo stato naturale, per esempio se noi andassimo a fare questo tipo di foto su Marte, troveremmo tutto buio. Nelle prime foto che venivano fatte, cioè queste foto vengono fatte da satelliti meteorologici che in generale vengono operati solo di giorno perché a voi serve vedere dove sono le nubi per capire come si spostano le perturbazioni. Ma alla fine degli anni 80, diciamo inizio degli anni 90, dei satelliti meteorologici americani hanno iniziato a lavorare per un programma di tipo militare per vedere se il riflesso della Luna sulle acque poteva aiutare i piloti nella navigazione notturna. Chiaramente si trattava dei piloti militari, quelli che erano magari sugli aerei che all'epoca andavano avanti e indietro per l'Atlantico con le bombe nucleari sopra perché si facevano, i piloti e l'equipaggio si facevano delle incredibili traversate. Cioè è una storia che pochi sanno quanta volte le bombe atomiche hanno girato intorno al mondo perché l'idea era se i russi, se allora l'unione sovietica attaccano, noi siamo pronti istantaneamente ad attaccare. Quindi ci sono stati scritti libri bellissimi sull'argomento che hanno raccontato quanti incidenti terrificanti sono stati sfiorati, aerei che sono caduti e fortunatamente le bombe non sono mai esplose perché erano fatte per esplodere solo su comandi multipli. Quindi l'idea era, questi aerei chiaramente erano in silenzio radio perché non potevano parlare, non potevano far capire dove erano loro e quindi si voleva vedere se il riflesso della luna poteva aiutarli. Queste immagini della Terra di notte sono poi diventate di dominio pubblico e quindi ci si è accorto che togliendo le immagini che avevano la luna quindi prendendo solo le immagini a luna nuova, quindi senza luna si vedevano tutti gli agglomerati urbani del mondo perché si vedeva tutta la luce che viene sparata verso l'alto. Quindi questo qui è tutta luce che è buttata via. Ora, uno può anche dire ma che bello, com'è interessante, ci si può fare un corso di geografia economica perché la luce è proporzionale al numero di abitanti ma è anche proporzionale alla ricchezza media delle nazioni perché voi vedete nazioni popolosissime come in Africa in Congo c'è una quantità di gente spaventosa ma non hanno corrente elettrica e quindi non hanno problemi di inquinamento luminoso hanno altri tipi di problemi. Mentre vedete benissimo per esempio il Giappone. Il Giappone è una delle nazioni con la più alta densità di popolazione, sono ricchi e quindi il Giappone non è un posto dove andare a costruire un telescopio. Infatti vedremo che i giapponesi li costruiscono alle Hawaii. Australia, ops, cosa è successo? Non lo sappiamo. Ok, va bene, va bene lo stesso. Australia, posto poco abitato, ricco ma poco abitato e quindi con inquinamento solo nelle grandi città. Una cosa che faccio sempre vedere è questa macchia qua. tra il Giappone e la Corea del Sud. Cosa c'è lì? C'è la flotta dei pescherecci giapponesi che pescano i gamberetti e per pescare i gamberetti puntano dei fari potentissimi sull'acqua. Quindi questo poi l'acqua riflette e fa questa cosa qua. Poi vedete che in Africa si segue benissimo il Nilo fino ad arrivare a Alessandria, il Cairo, eccetera. È una cosa veramente molto molto interessante. Poi guardate gli Stati Uniti. Gli Stati Uniti sono tagliati a metà. Da una parte sono molto illuminati, poi questa parte qui, delle grandi distese, delle grandi pianure centrali, sono assolutamente buie, diciamo così. Quindi è un modo divertente di studiare la geografia. Ma tutta questa illuminazione da dove viene? E vabbè, viene dal modo che noi usiamo per illuminare. Allora, qui vedete l'illuminazione che va dalla pessima ha un'illuminazione buona, ottima. Qual è l'illuminazione pessima? È quella omnidirezionale. Quelle sfere che si trovano su tutte le passeggiate a mare d'Italia, per esempio, sono deleterie. Perché la quantità di energia che noi consumiamo viene spalmata su tutta la sfera e a noi serve solo in basso, serve dove noi camminiamo, dove noi viviamo. Non ci serve illuminare il cielo. E quindi vedete che l'illuminazione può essere pessima, può essere ragionevole e può essere buona perché è direzionale. Tutto quello che noi abbiamo visto sulle foto della stazione spaziale o sull'immagine della Terra che vi ho fatto vedere prima è dovuto a lampade di questo tipo che dirigono una parte della loro energia, del loro output luminoso verso l'alto, dove non serve. e vi faccio vedere un esempio di quanto possa essere la differenza tra una illuminazione omnidirezionale, voi la vedete qua, c'è questa lampada che illumina tutta la zona e invece togliendo questa lampada vedete che straordinariamente la situazione cambia e si vede che in cielo c'è la Via Lattea, cosa che prima non si riusciva neanche lontanamente a immaginare. quindi questo per dire che basta attenzione, basta veramente cercare di scegliere con cura le sorgenti luminose che utilizziamo per i nostri giardini, per le nostre strade, per migliorare moltissimo la situazione. Vi dico anche che quasi tutte le regioni italiane e la Lombardia è una delle più virtuose, hanno delle ordinanze regionali per limitare l'inquinamento luminoso. Quindi hanno delle regole ben precise su come devono essere fatte l'illuminazione delle strade, dei parcheggi, dei luoghi pubblici. Purtroppo queste regole sono spesso disattese dalle amministrazioni comunali. quindi attenzione. Se volete oltre a fare attenzione a come scegliete le vostre sorgenti di luce, se volete fare qualcosa di più potete partecipare a delle campagne di quella che si chiama Citizen Science, cioè la scienza dei cittadini. Quindi la scienza che può essere fatta da chiunque. Non c'è bisogno di avere un titolo di studio, non c'è bisogno di avere grandi esperienze. Queste qua sono misurazioni che si fanno semplicemente usando in modo smart il vostro telefonino. vedete questa è l'organizzazione che si chiama Globe at Night e loro una volta al mese quindi nel momento in cui non c'è la luna invitano le persone a uscire e andare a guardare una determinata costellazione ogni mese cambia la costellazione quindi quella che è proprio sopra la testa quella che è più comoda da vedere e bisogna dire quante stelle si vedono cioè sul telefonino viene fuori uno schema della costellazione e dice la vedi così così o così con 20 stelle 12 stelle 7 stelle quindi tu schiacci con quante stelle la vedi e a quel punto il telefonino manda l'informazione insieme alle coordinate dove tu sei all'ora in cui tu hai fatto la la tua misurazione perché in questo modo si può fare un controllo dal basso della qualità del cielo perché potete farlo nella piazza qui di Segrate ma poi magari potete camminare un po' andare in un parco andare in un posto magari meno illuminato e vi rendete subito conto che la quantità di stelle che vedete è inversamente proporzionale alla quantità di luce che avete intorno ok quindi questi qui in generale ogni mese raccolgono dell'ordine di 100.000 misure che poi vengono utilizzate per fare delle carte della qualità del cielo ci sono molti altri modi c'è Lost of the Night Dark Sky Meet ce ne sono tutta una serie di altri che sono sempre delle app ovviamente gratuite sul telefonino che vi permettono di partecipare a queste campagne di misurazione queste campagne sono pensate per sensibilizzare l'opinione pubblica perché la qualità del cielo è una diciamo a mio parere ha una valenza culturale perché la nostra cultura è molto scritta nel cielo tutti i miti greci sono trasferiti nelle costellazioni le stelle sono veramente uno scrigno culturale per noi ma per tutte le popolazioni del mondo quindi preservare la visione del cielo preservare il buio è veramente ha una grossa valenza culturale prima di avere una valenza scientifica perché gli astronomi a questo punto hanno capito che dove c'è gente loro non possono stare e quindi scelgono di andare in posti lontani in posti disabitati e ovviamente cercano di trovare dei posti fantastici per esempio qua vedete uno dei templi mondiali dell'astronomia che è la cima del vulcano Maunachea siamo a 4.000 metri in una delle isole delle Hawaii ed è un posto fantastico perché è al di sopra del livello delle nuvole quindi siamo in un'isola oceanica intorno a noi c'è l'oceano pacifico che evapora quindi si formano delle nubi ma le cime delle montagne sono sopra le nubi quindi hanno una quantità di notti serene all'anno molto grande sono hanno sicuramente più di 300 320 notti serene all'anno quindi sono dei posti straordinariamente ottimali diciamo così per fare l'astronomia anche perché le condizioni fisiche sono veramente eccezionali non c'è umidità nell'atmosfera e le le stelle si vedono veramente come mai come in nessun'altra parte del mondo quindi sono veramente dei posti meravigliosi se uno deve andare a fare delle osservazioni alle Hawaii voglio dire oppure gli europei vanno di più in Cile perché l'osservatorio europeo-australe eso quello che ha dato gentilmente le foto fantastiche che ci sono qui all'entrata della mostra ha i suoi telescopi sono a circa 2000 metri sulle ande e anche lì sono sopra il livello di inversione quindi sono sopra le nuvole e anche lì il grande telescopio europeo il VLT Very Large Telescope che è fatto da quattro telescopi da otto metri di diametro è in un posto dove piove meno che nel Sahara quindi sono dei posti scelti accuratissimamente perché ci si fa degli investimenti notevoli degli investimenti scientifici ma che però sono anche dei grossi investimenti tecnologici perché i grandi telescopi sono delle macchine incredibilmente complicate e incredibilmente performanti pesano tonnellate a più non posso ma si muovono con precisione micrometrica quindi sono veramente dei fantastici inni alla scienza e alla tecnologia quindi uno fa 24 ore di viaggio per arrivare nel posto più bello del mondo apre il telescopio fa la prima osservazione e vede questa roba qua dice ahhh cosa è successo cosa sono queste strisce queste strisce possono in una in una foto questa è una foto a grande campo vedete ogni quadratino è un rivelatore CCD è uno strumento che è stato pensato per vedere una ragionevole porzione di cielo perché si cercano oggetti variabili eccetera eccetera tutte queste strisciate cosa sono da che parte vengono purtroppo queste strisciate sono un regalo della tecnologia sono dovute ai satelliti Starlink quelli che Elon Musk lancia a gruppi di 60 per volta e ne lancia due gruppi al mese quindi qua vedete le due torri da 30 satelliti ciascuno che sono impilati per essere chiusi nell'ogiva del Falcon 9 quello che poi ha il primo stadio che torna indietro quella che è un successo tecnologico straordinario e Elon Musk vuole mettere in orbita 12 mila satelliti per fornire internet veloce in tutte le parti del mondo che non non sono cablate con la fibra ottica fondamentalmente l'idea è che potete vedere Netflix nel Sahara ora uno pensa anche e chi se ne frega ma evidentemente è un modello di business che può avere anche qualche interesse perché Elon Musk ci sta investendo pesantissimamente perché quest'anno entro la fine in questo momento ha in orbita 700 satelliti entro la fine dell'anno ne vuole avere 1500 per cominciare a fornire un servizio nelle aree rurali americane allora che cosa succede questi satelliti entrano vanno in orbita e vengono rilasciati uno dopo l'altro sono grandi più o meno come quel tavolo lì hanno un grande pannello solare un pannello solare che più o meno arriva fino al soffitto che può essere girato orientabile allora che cosa succede ai satelliti quando sono in orbita qua vedete la terra che viene colpita dal sole il sole è qua metà della terra è illuminata dal sole l'altra metà è al buio quando diciamo dopo il tramonto sulla terra è già buio i satelliti che sono a 500 600 chilometri di altezza vengono ancora illuminati e brillano perché riflettono la luce del sole per di più i satelliti quando partono hanno la parte diciamo il tavolo quello che qua viene chiamato lo chassis e il pannello solare che sono piatti quindi guardano tutti la terra e quindi nel momento immediatamente dopo il lancio i satelliti Starlink sono brillantissimi e quando si dice brillantissimi si intende brillantissimi questo qui è un fotogramma di un video che trovate su YouTube fatto vedete il 24 maggio del 2019 è stato fatto in Olanda da un cacciatore di satelliti quindi da una persona che si diverte a fotografare i satelliti che passano e qui ha visto per la prima volta il trenino luminoso degli Starlink sono 60 puntini luminosi che vanno uno dietro l'altro e sono molto più luminosi della stella polare quindi una cosa devastante che quindi sono loro che se per caso passano sopra nel campo di vista di un telescopio fanno disastri letteralmente è l'effetto diciamo dei satelliti appena lanciati dopo qualche giorno qualche settimana i satelliti hanno un motore a ioni e vengono dispersi perché ovviamente se devono coprire tutta la terra per fornire un servizio non possono stare tutti allineati ma devono stare su orbite diverse e quindi vengono dispersi e quindi si vedono un po' meno anche perché i pannelli solari vengono riorientati e quindi sono meno drammatici però voglio dire sono sempre una presenza sgradevole guardate qui questa è un'immagine fatta diciamo diciamo con una macchina fotografica normale non state guardando in un telescopio siamo nel cielo sud siamo in Brasile vedete c'è un campo di girasoli in Brasile e riconoscete se per caso li avete viste le nubi di Magellano siamo proprio nel cielo sud e qui vedete le strisciate dei satelliti e qua vedete anche una meteora quindi questo per dire che è facile vedere questi satelliti e diventerà sempre più facile perché appunto il nostro Elon Musk ne vuole lanciare 12.000 e questa è diciamo la rete di satelliti che è prevista appunto per permettere a tutti di vedere l'ultima serie su Netflix perché se no uno non sta più nella pelle e quindi cosa fare contro questa corazzata anche perché questo è Elon Musk ma non è mica l'unico Jeff Bezos ha anche lui in programma di mettere in orbita 3400 satelliti si chiamerà la costellazione Kuiper ma poi altri grandi diciamo Facebook vuole lanciare la sua costellazione perché tutti vedono un potenziale business ora uno capisce Jeff Bezos perché dice magari io vi do anche il link gratuitamente e poi voi ordinate da Amazon sempre poi ve lo portiamo nel deserto del Sara ovviamente ma gli altri invece non hanno diciamo un delivery da fare ma vogliono proprio vendere il servizio internet allora sono iniziate ovviamente delle frenetiche consultazioni prima di tutto gli astronomi ma non solo hanno cercato di capire ma quanto è importante quanto quanto è grande il danno che viene fatto questa qui è una camera di quelle a grande campo che viene usata per o cercare gli asteroidi c'è sempre un grande interesse per andare a cercare gli asteroidi potenzialmente pericolosi quelli che possono passare vicino alla terra oppure per studiare tipicamente le stelle cadenti le meteore quindi sono strumenti fatti per avere una grande visione del cielo e vedete che questo qua si è beccato diversi passaggi le varie strisciate che vedete sono trenini luminosi di allora questi che ruotano così sono le stelle perché le stelle brillanti questi oggetti le seguono e quindi il cielo ci ruota sopra la testa se il nostro telescopio sta fermo le stelle passano ma invece questi altri tutte queste altre strisciate sono i satelliti starlink e poi vedete che ci sono le meteore qua voglio dire che sono la ragione dell'esistenza di questo strumento quindi gli astronomi hanno lanciato il loro grido di dolore e Elon Musk ha detto su su non fate così io non ho nessuna intenzione di dare dei problemi all'astronomia io amo la scienza amo l'astronomia ha anche aggiunto e in ogni caso se non riuscirete a fare astronomia da terra la farete dallo spazio e non poniamoci tutti questi problemi allora lui ha detto sì è vero appena partono i satelliti sono molto luminosi perché sono messi in questa configurazione quindi vedete quanto è grande il pannello solare rispetto al tavolo del satellite ma quando diventano operativi quando quindi sono arrivati nel punto dell'orbita giusto allora vengono messi in questa configurazione dove il sole che arriva dal di qui ricordatevelo non viene più riflesso verso terra perché in questo caso viene riflesso da questa parte e quindi noi siamo qui a terra non lo vediamo più ok ma gli astronomi hanno detto ma i tuoi tavoli i tuoi satelliti sono brillantissimi sono più brillanti di tutti gli altri satelliti che sono in orbita quindi non è che uno sappia esattamente che cosa c'è ci sono delle antenne perché devono gestire sono dei ripetitori e degli emettitori di segnali a microonde perché sono quelli che portano un segnale internet allora lui ha detto ok cerchiamo di annerire i satelliti sono troppo brillanti li dipingiamo di nero e vediamo cosa succede sono stati dipinti di nero vedete questo sono i satelliti ops no torniamo indietro scusate questi sono i satelliti lisci con queste zone molto riflettenti e questi qui sono i satelliti anneriti meglio ma l'annerimento non funziona bene non funziona bene per i satelliti perché il nero impedisce al satellite di raffreddarsi anzi lo riscalda e quindi l'elettronica non ama essere riscaldata e allora gli ingegneri hanno pensato un'altra astuzia che è questa che purtroppo non la vedete qui ma in queste freccette bianche indicano delle alette parasole quindi sui satelliti sono state montate delle alette che si aprono quando sono in orbita quindi quando partono ricordatevi che partono una sopra l'altro quindi devono poter essere piegate quando arrivano in orbita si aprono e a quel punto impediscono ai raggi del sole di andare a colpire le parti più riflettenti del satellite questo qua si chiama Visorsat e secondo SpaceX è la soluzione giusta perché non gli crea dei problemi di surriscaldamento del satellite ma impedisce al satellite di essere troppo brillante in ogni caso allora gli astronomi continuano a discutere con SpaceX perché pensate che SpaceX costruisce sei satelliti al giorno di questi Starlink ne lancia 120 al mese ma ne costruisce sei al giorno quindi è uno sforzo industriale notevolissimo ma diciamo bisogna riconoscere che non hanno detto uff 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 questi rompiscatole di astronomi ma hanno riconosciuto il problema e hanno cercato di trovare insieme una soluzione in verità gli astronomi sotto legida dell'Unione Astronomica Internazionale si sono rivolti alle Nazioni Unite perché esiste un trattato sull'utilizzo dello spazio utilizzo pacifico dello spazio che è gestito che è uno dei cardini uno delle ragioni di essere di uno degli uffici delle Nazioni Unite che si chiama UNO OSA che United Nations Office for Outer Space Affairs che in qualche modo loro sono preoccupati invece dalla proliferazione dei satelliti perché voi dovete pensare che in questo momento in orbita a tutte le altezze ci sono 1500 satelliti funzionanti e ce ne sono 9000 rottamati quindi che hanno smesso di funzionare quindi in totale in tutte le orbite terrestri ci sono diciamo 10 11 mila oggetti orbitanti Elon Musk da solo vuole raddoppiare questo numero e se pensate a tutti gli altri che sono in coda per fare anche loro la loro costellazione per offrire internet al mondo questo qui fa sì che le orbite intorno alla terra specialmente le orbite basse diventeranno praticamente congestionate perché dobbiamo ricordarci che è vero che lo spazio è grande ma più satelliti ci sono in orbita maggiore è la possibilità di scontro e se due satelliti si scontrano fanno una nuvola di detriti che poi continuano a orbitare nella stessa orbita dei satelliti progenitori diventando a loro volta dei possibili proiettili che vanno a colpire altri satelliti quindi diventa un effetto a catena che si chiama sindrome di Kessler dal dal signore che ha cominciato a pensare a queste eventualità e ha fatto un po' di conti quindi da parte delle Nazioni Unite ci si chiede ma non sarebbe il caso di cercare di tenere questo controllo l'occupazione delle orbite terrestre il numero dei satelliti perché la cosa interessante e poi ho finito uno dice ma Elon Musk chi ha dato il permesso di fare sta roba? Elon Musk è perfettamente legittimo è regolare perché lui è un imprenditore sudafricano d'origine ma è americano in questo momento statunitense ha un'azienda negli Stati Uniti lancia i suoi satelliti dagli Stati Uniti quindi chiede il permesso all'agenzia federale americana che gestisce le comunicazioni quindi lui chiede l'autorizzazione e questa agenzia l'autorizzazione gliel'ha data per 12.000 satelliti e ribadisco il concetto in questo momento sono operativi in orbita 1500 quindi questa agenzia ha senza fare una valutazione ambientale ha dato il permesso e Jeff Bezos adesso ha avuto il permesso per lanciarne 3400 quindi la domanda che si fanno gli astronomi europei è per esempio ma quei satelliti lì partono dagli Stati Uniti però poi girano sorvolano tutto il mondo perché un'agenzia americana deve dare il permesso a un satellite che poi mi passa sopra la testa a me non hanno mica chiesto il permesso ed è questa la ragione per la quale uno cerca di passare attraverso le Nazioni Unite perché è l'unico organo mondiale che potrebbe regolare questa cosa ci vorranno dei tempi biblici ma se non sono le Nazioni Unite non c'è nessun altro organo che potrebbe farlo l'unica cosa è che ci sia qualche scontro e inizi la sindrome di Kessler a questo punto non ce n'è più per nessuno devono stare a terra tutti diciamo così quindi è chiaro che questo problema trascende l'astronomia ma in un mondo interconnesso a volte appunto i satelliti riescono a dare fastidio sia agli altri satelliti che alle osservazioni astronomiche e quindi la fine della mia chiacchierata è centrata ancora una volta sul valore culturale del cielo l'unesco ha dichiarato il cielo stellato patrimonio dell'umanità quindi è un patrimonio come vi dicevo democraticamente e liberamente disponibile ma tutti dobbiamo contribuire a difenderlo e per difenderlo dobbiamo conoscere quali sono i problemi quali sono i pericoli ai quali va incontro il buio della notte ed è per questo che quindi ho scritto questo libretto il cielo è di tutti proprio per sottolineare il fatto che non esiste neanche lontanamente l'idea di privatizzare il cielo il cielo appartiene a ciascuno di noi nel cielo ci sono le nostre origini davvero non è un modo di dire perché tutti gli atomi del vostro corpo tranne l'idrogeno e l'elio e non è che nel corpo ci sia particolarmente tanto elio sono stati sintetizzati dalle stelle quindi noi siamo davvero polvere di stelle e il trasporto l'interesse che noi sentiamo per le stelle è in qualche modo legato al fatto che proprio deep down dentro di noi noi sappiamo che veniamo da lì ma il cielo è nostro il cielo è di tutti noi e tutti noi dobbiamo difenderlo grazie grazie